Ciao a tutti ragazzi e benvenuto in questo nuovo video di Resident Evil Ecco il primo episodio che vi porto sul mio canale ragazzi Spero che i video vi piacciono E così se vede che vi piace ragazzi porterò avanti questa serie qua Comunque andiamo avanti Desideravo tanto di farlo sul mio canale quindi cercherò di completare tutto il gioco Allora ragazzi Non vi impressionate Allora intanto andiamo avanti Allora non vi impressionate Io non ci ho giocato questo gioco Quindi ci ha giocato mia moglie e mio cognato Quindi non c'entro nulla E ho fatto qualcosina E per me è tutto nuovo Quindi non so niente Allora intanto io carico la partita Così faccio gioca ancora E sceglierò I nuovi vestiti anche di Visto che loro hanno usato Jill Valentine Hanno sbloccato I vestiti di Jill E quindi lo andremo a fare subito Allora noi facciamo Gioca ancora ragazzi Siete pronti? Io sono pronto Spero di non cagarmi sotto Ok facciamo Principiante facile Normale Difficile Facciamo normale va Ok è stato sbloccato Un nuovo costume Bene Allora Chris sembra lo stesso E la Valentine Jill Valentine Eccolo qui ragazzi Un nuovo costume Allora ecco invece Questa qua Della nuova serie Allora io preferisco Prendere Quasi quasi Prenderò quell'altra Vabbè Io prendo questo ragazzi Del nuovo costume Oh la storiella Come ragazzi dovete sapere Che questa serie qui È molto 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 lunga Io già me ne immagino Perché ci sono parecchie enigme Da fare E poi ragazzi Mamma mia che strage Che ha fatto Allora sto leggendo Un attimo ragazzi Vediamo cosa dice Bravo team Helicoptero Era un derelict Spera Il corpo Il corpo Che Ok Questo è Albert Wesker È Tra Si è diventato... ...una notizia Se avete domande da farmi dove state giocando è sulla playstation 3 Ok così già ve lo dico all'inizio Poi il gioco l'ho comprato sulla playstation store Lo potete benissimo comprarlo a solo 20 euro Ai 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 Porca miseria Mi fa venire i brividi guarda Sbranato dai cani Porca miseria Dopperman zombie Bah Che schifo Ragazzi stavo dicendo prima che se riusciremo a finire il gioco entro 5 ore o 3 ore non sbloccheremo delle armi tipo munizione infinite Invece se finiremo Dopo 3 ore avremo un lancerazzi Un lancerazzi infinito Però ragazzi Diciamoci la verità Chi cavolo finisce sto gioco in 3-5 ore Sei proprio esperto o bravo se per ogni punto E sicuramente mi perdo qua Ah Fanculo Ok Chris Chi è quello? Albert Albert Wesker E quest'altro qua non mi ricordo chi è Barry, si Barry, Barry Per sicuramente Benvenuti Chi è quello che è Chris Jill no Non vuoi andare fuori da fuori Ma abbiamo bisogno trovare E cosa è quello? Chris? No Jill, vai e investigare Io ando con lei Dove Vai a investigare Dove? Allora 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 Mamma mia Mamma mia Allora cos'è qua? Vediamo Prendi il nastro inchiostratore? Si Porca miseria Abbiamo pure i salvataggi contati Sì Allora Allora vediamo Questa è per mirare Questa sicuramente per sparare R2 la mappa Ok Quello orologio Sangue Eh Jill Sì Vediamo se puoi trovare Quali altre clue Sto 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 S Sono proprio curioso ragazzi Barry Allora Barry Cazzo stai analizzando E' sangue E' sangue no? Allora io non so cosa devo fare Deve essere sincero Andiamo da questa parte Ok iniziamo a aprire le porte Qua mi hanno detto che ci sono miliardi di porte in questi giochi In questo gioco qua Ragazzi io l'unico Resident Evil che ci ho giocato era Da Dal 3 della PlayStation 1 Nemesis Il 4 del PlayStation 2 del Leon Il 5 Sulla PlayStation 3 E il 6 Invece lui non ci ho mai giocato quindi Che schifezza sta facendo questo Sta mangiando un pezzo di carne Non è Porca miseria sembra un film Porca miseria Ah eccolo Scappiamo 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 Andiamoci così Dai per piacere Muori Muori Ma nooo Mortacci tua Tua sorella Tua madre Mortacci tu muori Muori Porca miseria ragazzi Già sono feriti qua Allora Allora vediamo eh E come si fa qua Ok Non so come si fa Porca miseria Già attenzione sono Mamma mia ragazza E qua io perderò sempre Come cavolo faccio a vingere qua Cosa Il cadale del compagno di Kenneth Sembra che abbia qualcosa in mano Cosa Videocassette di Kenneth La cassetta che appartiene a Kenneth Ho bisogno di un videoregistato Per vedere cosa contiene Ok Sì adesso andiamo a cercare Sarà meglio riferire alla Wesker Ok Già sono andato a Oltre questo Già sono ferito Qua non si può entrare No Mamma mia Qua Neanche E' chiusa l'embrea di un'armatura E' inciso sulla serratura Ok qua non c'è niente Ah ben tanto ragazzi Io me ne vado qua Perché non altro che sto gironzolando Mamma mia ragazzi Questo video qua Questo gioco qua C'è da tagliare precchi pezzi Perché sicuramente giro attorno in casa lì A vedere a vedere a vedere a vedere a vedere dove cavolo devo andare Cosa è? Guarda fuori è un monstro! Mi prendi la scuola E' ancora vivo? Io l'ho acciso Mamma mia tre magno ma ancora vivo era Cosa c'è questa cosa? Ho trovato a Kenneth Già è morto da questa cosa Proviamo questo a Wesker Porca miseria Andiamo da Wesker E' già son mezzo ferito qui Oh cavolo Si è già alzato Questo gioco mi fa cagare sotto sicuro Oh che lui è scappato Se ne ha fregato di loro Buona idea Che cavolo devo fare? Ho preso ferito qua Non c'è una cosa Per medicarmi Niente Qua non c'è niente Cosa Non c'è niente Cosa c'è da qui? Non ce ne c'è? Non posso capire Anche qui Chris e ora Wesker Non ci possiamo fare Possiamo andare a cercare di lui Ho scurito in un'espasso Ok, allora ho trovato la porta dall'altra parte ma che la mancia è gigantica potremmo facilmente essere perdita partiamo dalla prima parte ok oh! ho quasi scusato è un lockpick tu avresti più usato Grimaldello potrebbe servirti ah no no e questo cos'è? hai preso Grimaldello? secondo me servirà per aprire le porte sicuro sono già che porta ok porca miseria allora adesso mi tocca dove devo andare qua adesso ragazzi qua mi tocca vedere un po' dove devo andare ok entriamo qui dentro ah già c'è oh mamma mia già dal rumore mi fa cagare sotto guarda cosa c'è? il pugnale perfetto vabbè non ci interessa via ciao non c'è nient'altro vediamo un po' eh ok ok nient'altro oh no cosa è quello succede? io già sono mezzo morto qua porca via 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 ok mamma mia ragazzi rimane lì rimane lì brutto stronzo ma brutto stronzo ma brutto stronzo stai lì ma stai lì ok ok l'ho ucciso ragazzi l'ho ucciso quanti colpi mi sono rimasti qua? vediamo tre colpi già e come faccio? scusa non è che si alza di nuovo oh cavolo ah che casino eh sono rimasto pure senza arma ah mamma mia mamma mia coltello vai mamma mia ok ragazzi non mi può prendere meno male sennò qua non è mortacci sua veramente mortacci sua ok qua quando la musica va via vuol dire che è tutto a posto speriamo allora prendiamo questa roba qua oh sali ce la fai? è una mappa ok prendiamo sì mamma mia che cazzo quante porte ci sono in questo gioco? va ok ok qui non c'è più niente uuh 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 dai ok Allora, qua sono andato, sono ferito, non so come curarmi Allora, vediamo la mappa Allora, ci va queste due porte qua, quindi noi andiamo qua Mamma mia ragazzi E' difficile ragazzi, già mi sento, mi trovo in difficoltà e mi sto già cagando sotto Allora, sai che faccio ragazzi? Visto che è il primo video e voglio sapere se continuare questa serie Ehm, allora, anzitutto salvo eh, fammi salvare un attimo Salveremo, allora farò 5 va Ok Ha salvato, ce la posso fare? Ce l'ho fatta? Forse? Ok, saluto a giocomigliato Grazie E' là dei mortacci tua Ok ragazzi, qua Givalentine è ferita Niente ragazzi, fatemi sapere se il video, se devo proseguire con questa serie Così inutile che sto lì a proseguire se a voi non piace E io spero che a voi piace perché sono curioso proprio dove porta, dove ci porta Magari mi potete dare anche voi una mano perché io non so niente di questo gioco qua Niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate un bel like E logicamente grazie, aiutatemi Quindi commentate va Ciao ciao Ciao